Il concetto di day cruiser si è talmente ampliato ad aver assottigliato quella linea che c'è fra la barca per le veloci uscite giornaliere, il piccolo cruiser per il weekend e il tender per i super yacht. E proprio il super yacht, e per estensione a tutto il mondo del lusso, punta il nuovo Nerea Yacht 24, un 7 metri e mezzo di gran classe che si sta già facendo notare. Vediamo! Il nuovo Nerea Yacht 24 nasce senza perseguire il progetto dei day cruiser di massa, ma anzi, è una barca che punta proprio a differenziarsi, non per snobismo, ma più semplicemente per andare ad assecondare quella sfera di mercato che vuole lusso, classe e design anche su una barca piccola. In tutto questo Nerea Yacht 24 mantiene pur sempre l'identità di un 7 metri e mezzo snello e performante, quindi oltre all'estetica, su questo open ci sono pure velocità e maneggevolezza. Ed è anche una barca carrellabile, nuova è la barca e nuovo è anche il cantiere, su cui si può comunque fare affidamento, perché nasce da un background di alto livello che deriva dalla lunga esperienza del suo fondatore, Dario Messina, in ambito nautico-industriale. E poi perché il cantiere è organizzato proprio su un'impostazione industriale che poggia su solide basi economiche e manageriali. Non a caso, ogni aspetto a bordo di questa barca, dall'architettura degli spazi, agli arredi, sino alle finiture, alla scelta dei designer, conferma che il Nerea Yacht 24 nasce da un progetto chiaro e preciso per il contesto di mercato a cui mira, quello appunto dei piccoli open di classe e di lusso. Il pozzetto colpisce perché, in un minimalismo chic, esprime una raffinatezza degli ambienti decisamente attraente, da cui non si esime nemmeno la plancia di comando, che infatti era chiusa in un originale cubo digitale firmato Garmin Marine. Di altrettanta raffinatezza è la cabina, che vede tessuti di pregio e un'ambientazione molto curata. Tutto ciò fa del Nerea Yacht 24 una barca desiderabile non solo per chiunque voglia navigare con stile, ma pure per i grandi armatori che vogliono imbarcare sul loro super yacht un tender di forte individualità, che è stato disegnato dallo studio Idee Italia, già noto per diversi progetti nautici legati al lusso. Grazie a tutti!